ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita oggi siamo su chronos before the ashes come vi lascerà intendere il nome questo è sviluppato dagli stessi di remnant e from the ashes ecco per la precisione ma con un aspetto una grafica un pochino più secondo me fumettosa ed è una sorta di prequel il gioco non è nuovo nel senso che benché sia uscito da poco è un gioco che quando ho scoperto un gioco vecchio di qualche anno fa che era uscito in versione realtà virtuale e adesso è stato ripreso e ne sono stati cambiate alcune cose insomma la grafica è gradevole costa non ricordo se 30 40 euro su steam quindi non è un prezzo low budget ma è interessante perché come lo era remnant è una sorta di souls like con una particolarità noi qui nei panni di questo ragazzo andremo avanti esploreremo questo prequel di questa diciamo sorta di apocalisse insomma abbiamo davanti a noi un'ambientazione che ricorda un pochino anche quella di fallout con questi vecchi computer con questi macchinari un pochino stile steampunk con i computer vecchi tubi grandi tubi queste porte metalliche questi ascensori e con la particolarità che ogni morte provocherà l'invecchiamento di un anno del nostro personaggio premetto non so che cosa succederà quando lui diventerà molto vecchio però so dirvi cioè diventerà molto vecchio diventerà sicuramente perderà punti di agilità adesso andremo a guadagnare probabilmente forza agilità morendo ma perdendo diciamo morendo invecchiando tanto andremo a sbloccare l'arcano quindi praticamente diventeremo più saggi diventeremo meno agili ma più affini alla magia perché in questo gioco ci sarà una sorta di magia al momento possediamo uno scudo di legno e una spada di ferro e basta abbiamo dei perk che si sbloccano a 20 30 40 50 60 70 e 80 anni quindi questo è una cosa molto interessante dopo aver iniziato e vagato un pochino qua nel mondo di gioco sono riuscito grazie a questo terminale adesso vi faccio vedere come funziona sono riuscito ad attivare quel cristallo che altro non è che una sorta di falò nel senso che grazie a quello vedete qua si naviga con questo metodo qui sono sblocato questo cristallo è un falò e ci consente di spostarci rapidamente tra una location e l'altra ora andiamo il gioco inizia con questa signora che ci racconta una storia insomma io l'ho saltato sono deciso di iniziare da questo punto e praticamente niente moriremo probabilmente più volte e male però va bene ci proveremo intanto abbiamo i primi nemici davanti per annuncio che non ho mai combattuto quindi proviamo qua abbiamo lo scudo abbiamo la possibilità di scivolare il gioco ha delle recensioni nella media su steam quindi non è eccelsa la valutazione di questo gioco devo ancora capirne il motivo perché vedendolo giocare mi ha ispirato molto e soprattutto dal 24 di dicembre gli sviluppatori hanno aggiunto anche la lingua italiana benché sul sito su steam non sia ancora visibile quindi io vi avviso che qualora foste interessati il gioco contrariamente quanto riportato dalla pagina steam è in italiano quindi completamente tradotto bene tra l'altro e niente al momento abbiamo ucciso senza particolari problemi ma anche remnant non era proprio un souls nel senso che era sì cattivo però non così tanto questo cos'è lui mette via sempre la spada e si prende le varie cose adesso lo mettiamo nello zaino è un cuore di cristallo infuso nel sangue di un drago premire quando sei ferito ok stiamo andando a sbloccare anche l'ampolla adesso la fiaschetta estus allora quello blocca gli attacchi in arrivo tenendo premuto rb quest'azione consuma resistenza in caso di riservimento l'attacco farà breccia il personaggio sarà temporaneamente vulnerabile shift piuttosto parata con lo scudo ok così con shift e io non lo gioco col pad anche se questo gioco si pare sta veramente molto bene ok l'ho parato il colpo non ho ancora capito se effettivamente ci sia un modo di muoversi furtivamente ma sta camminando così oh dio quello è magico boia mondo ha un cannone quello eh vabbè ora non ce l'ha più andiamo a dare un'occhiottina per l'ennesima volta anche questo gioco si presta a un una live allora premi middle mouse quando sei vicino per un nemico per agganciarlo ok vabbè si possiamo targettarlo uno aia si ci fa vedere anche la vita insomma voglio targettare anche lui ok arrivederci si non ci lasciano oggetti ma andiamo avanti non si può correre non si può saltare il gioco è così eh questo era nascosto però io adesso sto giocando di anticipo nel senso che non vado a parare però vabbè il personaggio salito di livello otteniamo punti attributo da mettere nei potenziamenti premiesca perfetto in questo caso non abbiamo sbloccato niente perché non siamo avanzati di età io sono sempre 18 anni però posso andare a spendere un punto attributo e lo metto nella forza due ne ho da mettere uno e due mettiamoli nella forza no facciamo così no e lo mettiamo in vitalità ok vitalità che qualcosa mi fa pensare che comunque diminuirà invecchiando il personaggio ringrazio tra l'altro anche la THQ Nordic perché mi ha concesso di portare questo gioco THQ che ringrazio sempre anche per l'ottima bellissima esperienza su Desperados 3 ricordo che ho ancora alcuni codici disponibili per la versione di Desperados la prima il primo capitolo quindi qualora qualcuno fosse interessato me lo faccio sapere che gli farò avere il codice dell'idea è che non si può passare ma ci sarà sicuramente un modo di sbloccare la grafica mi piace molto mi ricordo quella di Immortals Fenyx uh poi per il momento i nemici fortunatamente non sono eccessivamente intelligenti quindi me la sto cavicchiando non c'è nemmeno un gran una grande interazione con gli ambienti quindi sono me la sto cavicchiando fino a questo momento scala vediamo se scende rapidamente dalla scala ma secondo me è uno prudente questo e non non si lascia cadere giù ok poi sicuramente non è un gioco per tutti è meno cioè lo trovo anche come come aspetto un pochino più fantasy rispetto a Remnant hai sentito i lamenti durante la notte penso che il ciclope si disperi per il lutto più del re stesso per il lutto più del re stesso che i cieli abbiano pietà di noi quando questo dolore si trasformerà in rabbia va bene qua ci sarà un boss qua qua c'è qualcos'altro devo ricordarmi sempre anche il tasto R per ma siamo tornati indietro qua il re ha vietato l'accesso al tempio cessare immediatamente qualsiasi lavoro senza alcuna eccezione cioè non ho capito perché il mio senso dell'orientamento lo sapete che non è un gran che però vediamo vediamo se siamo già passati di qua o no mi assomigliamo un po' alla zona si siamo passati prima di qua vabbè andiamo avanti rotola eh la corsa è fastidiosa che non ci sia si si siamo passati prima di qua vabbè salta giù si infatti dobbiamo trovare il modo di disattivare questa cosa ma qua qua ci friggono i i corpi c'è una cucina allora vediamo abbiamo aperto quella porta lì che di solito queste porte qui sono delle scorciatoie pazzesche voglio andare a vedere che cosa c'è di là e magari il mio senso dell'orientamento mi inganna e c'è qualcosa da esplorare si infatti perché di là torniamo indietro o siamo arrivati da qui boh no non credo no infatti non siamo arrivati ce n'è uno lì nascosto quindi adesso cerchiamo di fargli la parata a tempo salve ok è andato è morto anche lui ok lì c'è qualcosa tiro la leva ah si è spento il fuoco va bene allora era giusto era giusto questa direzione vediamo cosa c'è lì sotto sono curioso di vedere poi non sarà magari il gioco della vita però è sicuramente un bel un bel soul strike perché poi l'ambientazione da quanto visto si fa parecchio fantasy quindi boia mondo lei mi scusi no il tuo personaggio ha un valore basso di salute inizia a zappicare potrai talvolta sentire il suo battito cardiaco usa usiamo il cuore di drago ma il cuore di drago lo usiamo adesso ok e non ne abbiamo più quindi tecnicamente mi verrebbe da pensare che si ricarichi al prossimo cristallo comunque noi continuiamo no qua sono veramente in troppi iniziamo con calma ah lui ha sparato il suo socio e adesso ha sparato a me no veramente mi piace tanto quel discorso quel cannone lì che carica in quel modo perché ok boia mondo tu sei senza scudo tu sei senza niente e morirai poi si infatti andiamo avanti si poi io non impazzisco per le ambientazioni un po' mister fantasy mister steampunk soprattutto quelle con i cubi così però una scatola che cos'è questo scrigno è decorato con intricati disegni di draghi un contenitore lavorato con tanta cura deve custodire qualcosa di grande potere va bene e quindi non lo apriamo però leggiamo prendi questo come pagamento per i miei debiti a me non serve più e dopo l'ultima folia della re che ha rinunciato a tutti i frammenti della corona è più un peso che un dono ok tutto si fa sempre più misterioso il ciclope no non è il ciclope però oh agito in anticipo ma questo ha lo scudo quindi dobbiamo se riuscissi a spingerlo giù sarebbe il massimo ole è caduto lì sotto però vabbè almeno lì oh sto zoppicando si sono sono veramente lento veramente lento e c'è uno col cannone lì quindi io sono praticamente morto devo devo giocarmela di astuzia ok è andato ah sono livellato che culo credo di essere livellato perché mi è tornata la vita su però mi continuo a muovere abbastanza piano ok mi spari a meno che no però continuo a camminare piano adesso fammi vedere eh sì infatti aumenta la vitalità di uno e la forza di uno perfetto dai conferma dai 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 che andiamo avanti arriviamo almeno ad un altro cristallo così vediamo salve sembra uscito direttamente dal no man's sky questo non conosco la tua razza straniera ma sono questi sono giorni bui non è il momento migliore per allontanarsi dalla proprietà della natia cosa porta uno straniero in questi luoghi maledetti sono qui per uccidere il drago distruggere il drago puoi affollire specialmente dopo il triste incontro tra l'area e il ciclope potresti risparmiati la fatica e gettati sulla tua spada chi è il ciclope? è il nostro guardiano fino a quando l'area non lo ha tradito ora il ciclope attende a rimugina pianificando la propria vendetta non gli importa più nulla il che è successo è una storia troppo lunga basta dire che il ciclope desiderava sposare la figlia più bella dell'area ma invece a seguito degli inganni dell'area la figlia è morta e ora l'area è impazzita nessuno l'ha previsto si fa interessante perché la storia sembra essere molto semplice mi dà un'arma in dono? non hai l'occhio questa impresa è una speranza no non ho letto che cosa dovevo fare quindi ah ok niente no non l'ho letto mannaggia mi dà volere a dare qualcosa ma poi non me la do più quindi va bene niente andiamo a vedere di qua si è sicuramente un gioco che va approfondito perché ovviamente non è proprio chiarissimo visto così rapidamente in una ventina di minuti però mi è piaciuto anche quando l'ho visto su Twitch giocare perché comunque aveva questo andamento abbastanza tranquillo affronta ai mostri qua è chiuso una cella siamo in una prigione sottolinea ho visto che proprio l'ambiente diventava anche molto rigoglioso era molto bello da vedere qua ci sono questi mostri qua ma io vorrei andare a targettarlo a vedergli la vita ok no però l'abbiamo ucciso è un mostro rosso e non so cosa sto andando a fare qua la scala vediamo cosa succede qui ok ma salve lei ha due scudi cioè lei ha uno scudo scusate oh dio tre no è andata è finita non ce la farò mai a tutti a tre a meno che non livello adesso come colpo di fortuna di prima se riuscisse almeno ad abbattere lui si beh questo è inconcepibile che io ce l'abbia fatta comunque comunque e no adesso ho un piccolo dubbio da dove sono arrivato e dove devo andare perché comunque c'è una scala da una parte e una scala dall'altra ma così a occhio mi sembra che io debba andare di là non credo ci sia nulla da prendere qui no quindi andiamo avanti ho anche la fiaschetta che è finita devo assolutamente arrivare alla fine si infatti non sono arrivato qua infatti qua è una scala di sola andata non c'è modo poi di risalire però c'è un argano lì sotto un argano che probabilmente aprirà la porta per qualcosa si poi mi sembra che magari scemmiato anche un pochino la mitologia souls nel senso che parlano il ciclopo il re impazzito insomma quindi scusa io adesso lo prendo e ah ok premo più volte la e e magari mi fa anche uno scatto arrivato in cima no ok andiamo mmm qualcosa mi dice che potrebbe chiudersi oh vedete che boom fa un po' di effetto così ci sono già stato ho aperto una scorciatoria in pratica perché qua sotto c'è ancora il tipo di prima ecco lì sono morto in modo stupido ma diciamo che l'ho fatto anche abbastanza apposta perché voglio vedere cosa succede dopo la morte cosa succede dopo essere invecchiato di un anno vengono vengono ributtato fuori che poi vi ricordo che da dove arriviamo prima vabbè ogni volta che il personaggio muore la sua età aumenta di un anno ok da giovane la forza agilità sono dominanti ma mano a mano che il personaggio invecchia il valore arcano diventa più prominente in età avanzato nel più possibile potenziare forza agilità dopo la morte del personaggio tutti i cuori del drago alimentare vengono ricaricati completamente sì quello l'ho capito infatti adesso abbiamo 19 anni no diciamo che vediamo se si sono rigenerati anche i mostri infatti sì sono tutti rigenerati quindi bisognerà un attimino andare allo profondità però alla fine la base del gioco è questo è carino questo discorso qui della vita degli anni che passano non so cosa succederà quando saremo morti più di una novantina no più che altro a occhio così più di una settantina di volte perché il personaggio diventerà ultra novantenne però è molto interessante come tipo di gioco e per gli amanti dei souls like che non sono neanche così difficili mi sembra ben fatto almeno vi do il mio parere il gioco non è assolutamente male a livello grafico è carino e forse non lo definirei magari legnoso perché lo sto giocando con mouse e trastiere secondo me rende meglio col pad dove si riesce a graduare di più il movimento non potendo correre bisogna avere pazienza e aspettare che faccia tutti i suoi passi comunque adesso possiamo nuovamente aumentare siamo di livello 4 abbiamo mantenuto il livello possiamo andare ad aumentare adesso aumentiamo tutto in vitalità sì sì così ci aumenta la salute perfetto dai andiamo non abbiamo preso altri oggetti quindi però andiamo a rifarci altri mostri adesso sì anche qua ogni tanto c'è qualche problema con la telecamera perché non non mi risponde più come dico io piccolo baghettino che sia questo magari una delle critiche che gli hanno fatto sulle recensioni qua sì vabbè siamo rifiniti qua dove non dovevamo finire beh ragazzi allora io adesso vi ho buttato un pochino il la pulcione all'orecchio su questo titolo attendo ora il vostro parere per farmi sapere che cosa ne pensate ovviamente dovete tenere conto che adesso io prima vi ho detto il prezzo a grande linee ma vi specifico che è 29 euro e non 39 quindi una trentina di euro avremo diversi poteri avremo anche la possibilità di usare la magia avremo nuove armi insomma avremo ambienti che diventeranno comunque più fantasy come vi stavo dicendo prima adesso io poi mi sono distratto a parlare e non guardavo lo schermo e sono quasi morto ancora dicevo che poi quando noi siamo partiti e siamo partiti dal cristallo e il cristallo ci porta in un'altra dimensione che è quella che mi fa pensare più a un'altra linea temporale e anche lì c'è una base con delle porte chiuse quindi noi nei nostri viaggi raccoglieremo molto probabilmente degli oggetti per poter fuggire da quel palazzo da quella torre da dove siamo partiti all'inizio quindi non sarà magari il gioco della vita ma secondo me è ben fatto per gli appassionati di giochi e so che ce ne sono tanti che amano giochi un po' la Soul Slay con questi combattimenti in cui si va avanti si procede vedete lì adesso possiamo prendere il cristallo e tornare indietro e tornare all'altra base ma all'altra base ci sono delle c'è una torre che mi ricorda quella vista in Remnant non vorrei magari fosse la stessa perché poi Remnant non l'ho più finito ma Remnant avviene a livello temporale dopo questo questo era Kronos Before the Hashes fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti qua sotto e noi ci sentiamo al prossimo video game play alla prossima ragazzi e ciao ciao Grazie a tutti